La serata televisiva di venerdì 15 dicembre 2023 ha visto la vittoria di The Voice Kids su Rai 1, condotto da Antonella Clerici, come il programma più seguito con 3.571.000 spettatori e il 23,6% di share. Segue al secondo posto Ciao Darwin su Mediaset con 2.754.000 spettatori e il 20,1% di share, con Paolo Bonolis ancora dietro a Clerici. Al terzo posto si colloca quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, con 1.043.000 spettatori e il 7,4% di share. Seguono altri programmi come Propaganda Live sulla 7, Il Bambino Nascosto su Rai 3, e altri canali come Italia 1, Rai 2, 9 e TV8, ognuno con i relativi spettatori e share.